Musica Stanno avendo il termine l'operazione di recupero di un autocarro pesante con sopra un muletto andato fuoristrada questa mattina sulla strada provinciale 565 poco prima di Ponte Preti a Ballistero Canavese. L'autocarro è finito con le ruote del lato destro nel fosso che costeggia la carreggiata. Per poter permettere il recupero del mezzo i carabinieri di Castellamonte hanno chiuso per circa un'ora la strada al traffico veicolare. Da un lato all'altezza dell'uscita di Castellamonte e dall'altro alla galleria di Premonico. Il leso conducente, disagio per i veicoli diretti e provenienti da Ivrea. Grazie a tutti.